In questo video installiamo un'altra mod in Minecraft Java, in particolar modo installiamo WordEditQui. I saluti a fine video. Sul nostro server Minecraft, a scuola con Minecraft, che è sia Java che Bedrock, all'interno del server è installato anche il plugin WordEdit, cioè puoi costruire un po' più facilmente alcune cose con Minecraft. E questo magari ti può tornare utile per i contest che avviamo sul canale. Detto questo, in questo video ti faccio vedere come installare su Minecraft Java WordEditQui, che fondamentalmente è una mod lato client che ti cambia un po', ti migliora l'interpretazione di che cos'è WordEdit. e ti facilita la rappresentazione grafica, per esempio, della selezione che tu hai fatto. Andiamo ad installare questa mod adesso. Nel video precedente abbiamo installato MultiMC, il software che io utilizzo per la gestione delle mod Java. Adesso dobbiamo installare WordEditQui. Ho semplicemente digitato WordEditQui su Google, ho cliccato il primo risultato è CurseForge. Clicco su quel link e mi compare il dettaglio di WordEditQui. Qua ci sono le informazioni di come installare questa mod. In particolare è una mod 1.16, eccolo qua, 1.16.5 compatibile. E poi non bisogna utilizzare Forge, ma un altro strumento. Si chiama FabricLoader. Poi bisogna anche installare le FabricAPI e poi procedere con l'installazione di questa mod. Quanto è difficile? Facilissimo. Mi sono scaricato dai file WordEditQui. Ho cliccato su questo link e si è aperto quest'altro jar, FabricAPI. Clicco qui, poi clicco anche qui. Dove sta? Dove sta? Ok, così mi scaricherò. Me li sono già scaricati, però ti faccio vedere che fondamentalmente devo scaricare, vedi? 1.16.5 compatibile. Questo è WordEditQui. Poi FabricAPI. Dov'è? Dov'è? L'hanno aggiornato da poco. 1.17. Io non mi sono preso ovviamente questa versione, ma questa della 1.16.5. Perché? Perché WordEdit ad oggi è ancora soltanto 1.16.5. Dicevo che io utilizzo MultiMC per la gestione delle mod. Nel video precedente abbiamo modificato una versione 1.16.5 che era vaniglia e l'abbiamo fatta diventare Forge compatibile. Ora potremo aggiungere una nuova istanza 1.16.5, cliccare e avviarla e poi modificarla per farla diventare FabricLoaderCompatibile. Cosa voglio fare invece? Io voglio modificare quella Forge precedente soltanto per capire come vengono gestite queste cose con MultiMC. Allora, io vado a modificare questa istanza 1.16.5. La versione comprende Minecraft 1.16.5 ma anche Forge. Io potrei deselezionarlo e disattivarlo oppure semplicemente cliccarci e poi selezionare Rimuovo. Quindi Forge adesso non ci sarà più. Poi dobbiamo installare Fabric. Installo su Fabric. Nuovamente mi dice guarda che per la 1.16.5 questa è quella che consigliamo. Clicco ok e sta e ha già installato Fabric Loader. A questo punto vado su The Mod. Precedentemente avevamo installato Just Enough Item. Voglio eliminarlo, non ci interessa più. Invece vado ad aggiungere altre due mod. Fabric API, che è quella che avevamo scaricato, e Word Edit qui. Clicco su Apri, me le aggiunte e vado semplicemente ad avviare il tutto. Come vedi ho installato Minecraft con il Fabric Loader avviato. Clicco su Multi Layer, ho già creato il mio server. Mi ci aggancio, entro nel server, benvenuto, andiamo nel portale e poi nella propria zona di competenza. Vado qua a sinistra, non ci sono contest attualmente, lo sappiamo ma presto ce ne saranno altri. A questo punto è sufficiente, per esempio, cliccare tasto sinistro da questo lato, tasto destro da questo lato. Ed ecco fatto che una griglia più facilmente interpretabile ci viene incontro per capire al meglio Word Edit. Ma questo nei prossimi video. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link per agganciarti al nostro server Discord ed al nostro server Minecraft, che è sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway, come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi se non lo hai già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco, mentre saluto MK Obsidian Fox, Geo Lion e Nicola da YouTube, Campanaro09 Italia, LC Leo e Giacomo P899 dal canale Discord che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao! 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 Ciao!